C'è chi è riuscito ad infilare un orsacchiotto nello zaino prima di scappare dall'inferno e chi è camminato per giorni senza separarsi dalla sua macchinina. Storie di dolore e disperazione che sono confluite nel pullman organizzato dal comune di Baronissi per prelevare 40 donne e bambini scappati dall'Ucraina, tra loro anche una giovane mamma che già in passato era stata ospite nella valle dell'Irno. Avevo 10 anni come mia figlia, adesso sono venuta tra tanti anni per salvare le mie figlie perché da noi c'è la guerra. Ho lasciato la mia famiglia, mia mamma, sorelle, mio marito, tutti lì. Il viaggio finanziato dal comune ha visto in prima linea i volontari dell'associazione Il Punto che hanno raggiunto in bus medica al confine polacco-ucraino per recuperare i profughi e trasportarli a Baronissi. Un'esperienza toccante, come raccontato da Gianluca Di Rosa e Luciano Bottiglieri. L'espressione di questi bambini, di queste mamme, che anche sapendo di andare in un posto sicuro, c'è sempre la preoccupazione di aver lasciato un marito, una casa, di aver lasciato la propria terra. È stata toccante e impostante. Prima di poter abbracciare i connazionali e le famiglie che li ospiteranno nel Salernitano, donne e bambini sono stati sottoposti a tampone che ha dato esito positivo per due persone. Il comune nel frattempo è già al lavoro per agevolare l'integrazione dei cittadini ucraini. Una goccia nel mare della necessità di questo popolo ucraino, ma siamo soddisfatti. Ovviamente adesso dovremo lavorare per l'integrazione di queste persone.